niente facciamo questo scambio gli auguri natalizio commentiamo la nuova silla questa sigla è improvvisata però come è improvvisata questa diretta è una diretta che non volevo fare però carlo non la fai niente solo per far stare zitto a carlo perché poi sotto natale nelle chat whatsapp se non ce lo dobbiamo tenere noi carlo quindi l'ho fatto stare zitto così facciamo sta diretta sapete a me mi piacciono mezz'ora io l'ho vista ma ancora io l'ho vista un po così nel senso sul 2 a 0 ho smesso di vedere perché dai ci guardiamo un ciclo non è che è stato 2 a 0 non è che ci sia stato calcio però questa partita finisce 2 a 0 il lecce nei primi dieci minuti sembra insomma un atteggiamento alla garibaldina c'è tanta gente in diretta comunque io non sto vedendo nulla c'è che sarà più amichevole è entrato con sto fiatone sbuffato a me dai sai filippo che mi dà fastidio perdere no mentalità 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 l'ho detto mille volte io non perdo mai nemmeno quando gioco con mio nipote di sette anni quindi figurati se se sono contento o indifferente di fronte a una sconfitta del lecce anche in amichevole alessio io non ti vedo cioè vedo che se nel backstage però la telecamera non è aperta quindi vedi un po c'è gente che ha accastimato c'è daniele che ci dice che ha accastimato sotto natale ci sta c'è ragazzuoli si entra c'è ragione c'è molta gente quando facevamo le puntate di contenuti il mercoledì sera poca gente oggi parliamo del nulla tanta gente eh buonasera a PL buon lecce primo tempo unese fortuna trova il gol secondo tempo solo unese tanti cambi eh dopo il 2 a 0 le squadre hanno finito giustamente di giocare però la prova non è male salva a tutti è stato un buon allenamento una buona serata buoni 15 minuti poi blackout totale mi sembra un po' esagerato però dai blackout totale mi sembra un po' esagerato ma in generale nel senso tempo entrambi le squadre hanno passeggiato poi c'è stato quel gol io non ho manco capito chi ha segnato di loro per il 4 non avesse senza quel gol ma penso molto fortunoso un gol è entrato non sanno come comunque si è giocato a pallone nel primo tempo nel senso tempo le squadre hanno passeggiato in campo questa amichevole potevamo segnare nel primo quarto d'ora abbiamo avuto un paio di occasioni per caso tutto González pensava di essere in fuori gioco magari però ha avuto una buona occasione poi eh gol loro nasce da errore di Sissé eh non so se siete d'accordo Sissé per una valla a centro campo ragazzi non si può perdere quella valla poi Pongresic magari non era molto luce però là Sissé ha perso una valla Filippo più un TD che Pongresic perché Pongresic c'era già munito quindi ok era amichevole però non era di far racciare e quindi Pongresic non poteva fare niente un TD poteva mettere giù success e non farlo proprio lanciare secondo me perché Pongresic c'è lì che può fare un TD si è fatto superare Andrea per me l'errore là è di Sissé Sissé stava in una situazione offensiva ha perso un pallone che ha fatto lui ha tramulato l'azione da difensiva in offensiva cioè da offensiva in difensiva al contrario quindi vabbè no Filippo l'errore allora diciamo che gli attori di questo gol sono tre eh Sissé eh un TD e Pongresic in in successione ciao Alessio eh hanno fatto hanno commesso tutti e tre delle piccole ingenità eh Sissé è vero che perde palla però la perde sulla tre quarti più o meno no cioè da lì a dire che il gol cioè poi da lì sono passati la palla è passata a due difensori quindi diciamo così un po' così forse Pongresic è l'ultimo che ha avuto maggiore responsabilità a farsi superare a farsi scavalcare dal pallone e non è riuscito a frapporsi tra lui tra il giocatore dell'Udinese e la palla però insomma ci sta ma Pongresic comunque Filippo ha giocato è stato il peggiore in campo al di là dell'infortunio che poi è uscito perché si è fatto male ma secondo me non sta proprio in è una lotta particolarmente da seguire quella di oggi. Pezzella come l'abbiamo lasciato l'abbiamo trovato anzi ti dirò l'abbiamo trovato forse anche un pochettino meglio perché l'abbiamo lasciato proprio sotto terra eh non so se vi ricordate come l'abbiamo lasciato ma io meglio non l'ho visto sinceramente perché non ti ricordi come stava prima forse. Eh allora qualche commento Filippo lo strano caso per cui in Salento si inizia un amichevole ma era solo un amichevole se l'abbiamo di peraltro io ricordo poche settimane fa uno a uno la tacea arena con due paia eh presi eh le altre squadre fanno sempre più amichevole di noi arrivo a prima in condizione speriamo di arrivare pronti della ripresa perché sono il scontri e ragazzi però io non la userei come la mentella non la userei come la mentella perché io e Andrea sappiamo i salti mortali fatti per riuscire a giocare contro la quinta squadra della prima divisione croata mercoledì prossimo cioè solo per organizzare questa partita che un minimo sarà competitiva anzi secondo me sarà anche divertente come partita salti mortali miracoli che manco vi diciamo quindi io non ne farei una colpa eh l'Udinese l'ha fatta facile l'ha organizzata facile questi amichevoli perché c'hanno degli allacci incredibili cioè i posto stanno pure in Inghilterra ma non è quello il problema ma ragazzi ma l'Udinese Romano Vecchio giustamente dell'eronisti prima era la quarta amichevole cioè fare quattro amichevole quarta amichevole è vera nel senso perché poi con tutto il rispetto parabili del prima vera erano due srambate due partite così molto leggere e giurare roll due stemmer roll bilbao col copper non è non equivale a giurare roll parabili quindi noi eravamo alla prima amichevole tanti doppi allenamenti tanti rari ma bene va bene quindi comunque andrea di questo non abbiamo giocato male non abbiamo giocato male infatti 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 a parte tutto e non abbiamo preso eh più di due roll che è la regola di quest'anno almeno fin ad ora no fin ad ora il Lecce non ha mai preso più di due roll e oggi pur essendo amichevole ha mantenuto questa e poi il secondo era evitabile poi c'è stato il gol del Lecce in fuorigioco quindi comunque minimo ci siamo mossi Patrizio noi abbiamo abbiamo giocato abbiamo cominciato benissimo con la con la nostra solita verve delle ultime giornate no cioè quel pressare alto tanto che le occasioni iniziali nel primo tempo le abbiamo le abbiamo avute per parla rubata una sull'auto di destro una centrocampo cioè abbiamo avuto queste occasioni perché li abbiamo proprio ehm distrutti da quel punto assediati assediati bravo questo è il termine giusto dopodiché abbiamo preso gol sfortunatamente perché ci vuole pure culo nella vita lo sappiamo e anche nelle partite amichevoli e poi piano piano insomma siamo anche calati un pochettino la cosa importante anche da dire che abbiamo tanto sofferto la fisicità dell'Udinese questi in confronto a noi erano dei bestioni si se era un ramoscello di grano in mezzo al vento in mezzo ai alla difesa alla difesa statuaria dell'Udinese e anche anche lo scontro gendrè success dove c'è stato un mismatch importante e gendrè aveva fatto fallo è rimasto sotto di lui sembrava eh ma questo dove si alzarsi più è certo e bosele ha fatto sfracelli ha fatto carne da macello perché proprio ha una fisicità una potenza incredibile cioè ha fatto una dato una spallata a baschirotto l'ha buttata a terra baschirotto eh baschirotto secondo me si è sentito umiliatola non era il boselo e bossega poi tra tutti e due hanno un nome simile ne avevamo già parlato quando abbiamo giocato il campionato del dei punti forse l'Udinese loro praticamente sono io spero di incontrarla più tardi possibile l'Udinese in campionato Filippo spero veramente non lo so quando credo a me perché una squadra questa questa la soffiamo stiamo parlando di una squadra che fino a tre giornate fa stava in zona europea quindi insomma non stiamo parlando della prima squadra della prima classifica se non mi sbaglio è è stata è stata nelle prime tre per molto tempo quindi non erano amichevole facili tenendo conto che poi loro avevamo fatto le altre quindi ci sta forse non era l'amichevole ideale da fare come prima partita importante no vabbè ma pur parlere così nel senso che non è meglio meglio così tu affronti una che sta bene resta in palla che fisicamente è comunque più forti di te puoi solo puoi solo tra raggiovamento però se posso dire una cosa questa amichevole sono vera poteva essere importante per molti per per rilanciarsi un po per esempio penso a pezzella che non ha sfruttato l'occasione penso ad haskinson che era un po in ombra ed è stata un po in ombra anche oggi e sì se non mi è apparso così decisivo davanti per poter pensare di scalfire la titolarità di colombo delle ultime giornate mi sarei aspettato di più di alcuni elementi onestamente però person è uno sì sì no person invece uno che come così come entrato contro il parabita ha fatto vedere che comunque in attacco non è così azzardato pensare di poter puntare su di lui soprattutto in chiave futura ma io non lo scarterei così a priori perso comunque anche dalla conclusione della distanza oggi ha fatto vedere che non è solo un uomo d'aria ma comunque è un uomo è un calciatore forte fisicamente di gamba quindi comunque un minimo di prestazione te la può assicurare vedremo la Lazio non ti è sembrata in forma la Lazio ha giocato ieri contro l'Almeria poi ha giocato contro la Tais e poi ha giocato contro il Gara Sarai quindi magari ieri non era lucidissima il Napoli ha fatto il panico da agosto a novembre e ha perso due amichevoli con il Villareal e con lì il 4 a 1 questi amichevoli lasciano molto il tempo che trovano perché bisogna vedere come si è lavorato noi effettivamente non lo sappiamo abbiamo visto e non hanno lavorato tanto perché hanno fatto due allenamenti quasi tutti i giorni quindi sicuramente non hanno lavorato tanto non sappiamo sotto che punto di vista della forza delle varie radioriere ci sono quindi non possiamo dire secondo me davvero i risultati lasciano il tempo che trovano come diceva Patrizio magari puoi andare a vedere la prestazione del singolo perché magari puoi valutare come si è mosso poi il singolo però il risultato in sé cioè abbiamo chiuso la partita Rontuja in campo Bjorkman in campo Persson in campo gente del campo non l'ha visto mai Lemmens Lemmens quindi mi fa capire che il livello di questa amichevole Oden che è entrato benissimo Andrea Oden a me piace Carlo a me piace però si trova sulla fascia di strefezza quello è il suo problema però può giurare dal settantesimo in poi almeno dal 65esimo settantesimo in poi ci chiede di Bjorkman a noi di Bjorkman non ce le racconta nessuno le cose quindi non sappiamo che intenzioni hanno io ti posso dire la mia su Bjorkman per me è un elemento che c'è non c'è nell'equilibrio della squadra mi cambia poco poi a parte che per essere inserito qualcuno deve uscire quindi penso che se inserisci Bjorkman devi togliere un altro dalla lista che può essere un set in o qualcun altro quindi vedremo le valutazioni insomma non so che ne pensate voi io c'è o non c'è Bjorkman non so quanto mi cambia l'equilibrio è fuori fuori dal progetto lo fa giurare semplicemente per venderlo secondo me lo fa giurare per quello non è lo fa giurare perché perché crede in Bjorkman lo fa giurare per metterlo in mostra per dare anche un segnale a chi lo vuole comprare del giuratore comunque c'è secondo me Antonello si riferiva al fatto che Bjorkman che è fuori è così tanto più scarso fra virgolette di uno come Askilson di uno come Bistrovic quella è la domanda l'allenatore sì l'allenatore sì che lo vedo tutti i giorni sì per lui sì ma per lui già era scarso in Serie B parliamoci infatti Carlo è proprio il fatto cioè lui ai blocchi di partenza l'ha bocciato e gli ha detto comprate gli altri centrocampisti e l'hanno comprati e si vede questi qua non sono stati all'altezza cioè poi Askilson comunque ha più esperienza di Bjorkman in Serie A quindi non sono giuratori paragonabili comunque Askilson ha 35-36 presenze in Serie A Bjorkman non c'era nessuna è tre anni più giovane non lo so secondo me non è comunque paragonabile poi lì ha il gusto dell'allenatore dipende anche allenamento importante che è esattato ancora una volta il problema di questa squadra ovvero nel momento in cui a Lecce togli quattro elementi i quali erano quelli che hanno chiuso le prime 15 giornate in crescita e i quali fino a ieri stavano a coverciano le problematiche insomma delle auto 3 perché oggi abbiamo avuto una problematica entra avanti ma noi abbiamo Colombo che l'abbiamo visto le ultime partite abbiamo avuto una problematica con Pezzella che non c'era Magallo le ultime partite l'abbiamo visto in difesa oggi un po' in difficoltà ma c'era Baschirotto Filippo Filippo un tito ha tenuto bene comunque non mi è dispiaciuto un tito cioè ha fatto secondo me una partita buona di contenimento mi è sembrato anti abbastanza sul pezzo quindi può essere speriamo fisicamente tenda che un tito alla fine 5 su 15 l'ha fatto 5 su 15 l'ha fatto questo è un altro argomento perché oggi Carlo abbiamo messo la notizia che è riportata dalla casetta O Sport che Baschirotto è piaciuto a Mancini e Mancini se lo vuole tenere insomma nel giro suo per me per me adesso a maggior ragione che c'è questa indiscrezione Baschirotto non esce dal campo manco con le bombe no no ma Baschirotto la proformazione sarà Falcone e Baschirotto e altri nuovi giocatori quindi oggi abbiamo giocato senza un titolare al primo minuto no vabbè a Yulman e a Strefezza sì i buoni anche Colombo forse anche Colombo vabbè sì dai diciamo che ci sono dei giocatori inamovibili Baschirotto non esce ma Baschirotto non è già mai uscito dal campo mi sembra che l'abbia fatta e quindi di conseguenza il discorso e la domanda da farsi è a fianco a chi a un TT o a Pongracic perché questi due saranno comunque Pongracic bisogna valutare come sta perché oggi è uscito e noi sappiamo che per certe cose i tempi di recupero possono essere più lunghi del previsto io spero non si sia fatto nulla però Carlo è un ruolo anche abbastanza delicato quello il ruolo di centrale di difesa comunque ci sono infortuni speriamo di no ma squalifiche quindi se ne hai tre di livello e si conservano fisicamente tanto meglio sono problemi buoni poi secondo me tra un TT e Pongracic per completezza per come si completano meglio io vedo meglio Baschirotto un TT che Baschirotto Pongracic io anch'io sinceramente perché li vedo meglio più più completi assortiti sì però poi bisogna vedere che poi fra l'altro per assurdo paradossale scusami Filippo paradossalmente se dovesse esserci qualche problema per Pongracic comincia a diventare un po' pesante perché noi non abbiamo Giudermacu set in viene considerato e non considerato c'è Tuglia c'è Tuglia sì sì ma fortunatamente Tuglia fino a qualche settimana fa Tuglia anche lui aveva qualche problema fisico c'è Blen c'è Blen all'occorrenza sì però insomma Patrizio Dermacu è una follia cioè Dermacu ha lasciato il muscolo qua e oggi voglio andare a riprenderselo sono passati cinque giorni Dermacu mi sembra che sia passato quasi forse due mesi sono passati due mesi sono passati due mesi ha lasciato il flessore alla Dacia Arena e oggi ha chiesto a Baroni di riportarli e loro ad Acaia abbiamo giurato 6-7 novembre secondo me quindi 5 novembre oggi siamo 5 novembre se ho sbagliato ma infatti è il problema ragazzi indifferenziato sta ma è assurda questa cosa o due sono le cose o non era di primo grado e quindi era di secondo grado e allora ci sono scambiati in primo grado ma ragazzi miei dai ma pure di terzo grado perché sennò il problema di Dermacu non è sono gli infortuni perché lui è stato sfortunato vi sentite? si sentite? si è stato lui è stato sfortunato il problema è che lui quando si fa male ci mette tempo per recuperare rispetto agli altri e non è la prima volta c'è la responsabilità se la responsabilità del suo muscolo non lo sappiamo purtroppo noi non abbiamo la competenza per poterlo vivere non lo sappiamo certo noi commentiamo quello che vediamo e quello che vediamo è che un infortunio a Dermacu dura secoli e quindi di conseguenza ci chiediamo il perché non sappia nessuno ci darà questa risposta però questa è la realtà dei fatti comunque Filippo io volevo dire una rosa che rispondo a questo un attimo questo messaggio è una botta muscolare sembra una distorsione alla caviglia è salito sopra gli è salito sopra l'avversario è una distorsione alla caviglia dipende com'è 15 giorni ce li mette per guarire no Carlo però è uscito sulle gambe e nemmeno no dipende se è una distorsione una contusione dipende da tante cose tanti fattori distorsione ma ha preso una botta e per pre-rozione è uscito per come l'avete può essere sicuramente sarà così speriamo dicevi Andrea che volevi dire una cosa la rosa della mezzala che tutti dirono la mezzala perché anche prima aveva scritto le stesse problematiche penso penso si riferisse al centrocampo io a me questo centrocampo piace io non sono così convinto visto che da voi l'ore si sa da voi l'ore sappiamo non dovrebbe arrivare la mezzala che ti sconvolge il centrocampo cioè io spero arrivi qualcuno che possa essere utile forse più di quelli che abbiamo a partita in corso ma Blen e Juhlman González non è un centrocampo che io no disferei facilmente sinceramente perché secondo me è un centrocampo ben assortito anche loro ormai si trovano bene i movimenti anche González stesso quindi sta mezzala la prendiamo speriamo anche due però non per forza deve essere una mezzala che è valido di serie A punto deve essere un centrocampista valido deve essere Patrizio scusa un flash un centrocampista che quando entra non ti faccia rimpiangere chi è uscito questo è il profilo l'abbiamo detto paura che se arriva uno Baroni che sappiamo non amare forse tantissimo Blen da mezzala poi possa scontrare Andrea ma se mi arriva uno che è valido che è meglio che è blen io voglio giocatori validi però Blen Juhlman ragazzi cioè Juhlman rende molto meglio da quando c'è blen accanto quindi o prendi un similblen oppure io spero che non torti quel centrocampo tra l'altro oggi Blen l'ha visto abbastanza propositivo nel secondo tempo perché si è allargato sulla destra ha messo qualche cross interessante qualche pericolo insomma ha fraseggiato parecchio bene ma blen fatti Patrizio sì sì ma sai nell'immaginario collettivo Blen sembra un centrocampista molto difensivo però è quello che probabilmente può fare per assurdo tutti e tre i ruoli del centrocampo che stanno facendo in questo momento lui Juhlman e González chi deve arrivare deve essere un centrocampista che ha delle caratteristiche leggermente diverse rispetto a quello abbiamo in rosa e all'altezza della rosa perché altrimenti non ha senso farlo venire io dubito molto anzi io escluderei Zurkowski non mi sembra per me arriverà un giocatore che o nemmeno ci pensi i giocatori che ma chi è non li compriamo si è svincolato si è svincolato Isco Andrea Isco si è svincolato abbiamo parlato un altro giorno non mi puoi chiedere da dove può arrivare quando Cordino mi comprò Nikolov due anni fa cioè possiamo prendere c'è una visita per tutto per questo io non riesco a dare è diverso perché quel Nikolov serviva quell'anno però il centrocampo quell'anno era un reparto comunque abbastanza completo quest'anno il centrocampista come dicevo magari ti entra al sessantesimo e ti fa la differenza serve no quindi secondo me si deve andare almeno per uno su uno stato sicuro tra virgolette cioè su un giocatore non Nikolov che viene da Andrea io sono d'accordo sulle intenzioni io sono d'accordo sulle intenzioni però il modo soperano dell'Ecce è quello là per me non arriverà un giocatore celebre per me non arriverà un giocatore celebre ma la media voglio celebre però uno pronto uno ombre della serie B ogni volta riescono a sorprenderci secondo me ci sorprenderanno di nuovo arriverà qualcuno che non conosciamo io non sono convinto di questa cosa qua anzi forse pure due che non conosciamo non ci facciamo troppi pippimentali per me arriverà il serbo che non sai chi sia però poi è buono anche perché sai cosa succede dopo se fa arrivare un calciatore non dico celebre ma comunque affermato rischi di rompere certi equilibri in una squadra dove tutto sta andando abbastanza bene diciamoci la verità cioè noi abbiamo messo tutti e quattro dodici firme chiudi il discorso arriverà in prestito le operazioni di gennaio saranno in prestito secco forse per quello ti dico per quello ti dico un catturampista in prestito secco o forse lo riscatto lo prendi di livello comunque noi prendi uno dalla Croazia della settimana ragazzi il profilo era il profilo era ben delineato anche avevamo anche nome e cognome quindi poi vediamo cosa succede io non sono molto fiducioso però Bove non ti avrebbe fatto fare quel salto di qualità no cioè Bove sarebbe essere il giusto compromesso per me arrivava una cosa così Andrea e te lo sto dicendo che il profilo era segnato era il giocatore che non entra subito titolare che magari si può conquistare la titolarità e quel giocatore che probabilmente se lo metti in campo al sessantesimo al sessantesimo ti può fare qualcosa in più o non far rimpiangere il profilo era proprio quello del giocatore italiano che ha giocato in Serie A comunque di prospettiva eccetera per me arriverà una cosa così ne sono piuttosto convinto una cosa così vediamo Samek non doveva fare un po' è un po' la prima vera forse ha deluso non è pronto è un 2004 Samek ragazzi 2004 ma ce ne sono una 2004 che giocano in Serie A Pafundi Pafundi che hai giocato oggi ma non è del gioco ma non è del gioco no 2004 anche perché Pafundi mi sembra sia più picco mi sembra solo 2005 se non sbaglio Pafundi è proprio 2006 però non vorrei dire sì mi sembra 2006 2006 Pafundi Chirico 2004 c'è quel calciatore del Torino che ha giocato contro di noi quello turco mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra il corriere andate avanti ma chi è che consegna il 23 di dicembre a quest'ora io sto aspettando il corriere per le scarpe non è arrivato ma Filippo è arrivato sono le scarpe due che sono arrivato a Filippo è apposta comunque nel 2006 posso dire una cosa non si è sentito la teleronica di Telerama comunque Pafundi è stato dipinto come un fenomeno è forte ma ancora molto molto acerbo nel senso Andrea c'ha 16 anni sì però è leggerino Filippo il Filippo è andato via eh Patrizio sì sì un po' funamboli un funambolo no però poi magari non lo so se è così forte come si no vabbè ma stiamo parlando di un calciatore che deve formarsi in tutto e per tutto a quelle talline non puoi pensare di aver finito di essere un calciatore fatto e finito sembra forte Andrea a meno che non ti chiami per le buona prospettive sembra forte però ce ne sono tanti ti sembra no no però anche Vultro a noi sembra forte poi bisogna vederlo in campo è arrivato il pacco Filippo vabbè comunque quando mai hanno fatto le consegne vabbè dai non commentiamo la storia consegna vabbè sta lavorando quel tipo sta lavorando allora Samia che giocava vabbè ragazzi in Repubblica cieca dai adesso va di moda come ad Ante la pedina che blocca il calci mercato a centro campo per me hai visto che c'è quello sulla carta più esperto ma di fatto c'è il fiatone comunque hai il fiatone sì perché ragazzi dai devo andare pure in palestra Beriscia Beriscia mi ha chiesto il link per vedere la partita un'ora fa se volete informazioni su Beriscia io ve la do poi i tecnologisti dell'Ame evidentemente sono i procuratori di chi di che stavate parlando di i profondi lo hanno saltato parecchio il Corriere sta perdendo la live per colpa del tuo pacco no vabbè comunque ragazzi dicevo secondo me arriverà un centrocampista totalmente inatteso perché io non dimentico che noi facciamo sempre queste valutazioni però anche due anni fa con Corriere per via quello pronto è arrivato Nicolo e anche l'anno scorso per via quello pronto è arrivato Faragò io sono convinto che troveremo qualcuno che leggiamo il nome e diciamo ah chi è io ne sono convinto di questa cosa Faragò si sapeva che non era un fenomeno che non era analizzata anche ci sorprenderanno io ne sono convinto che ci sorprenderanno ma speriamo 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 perché non è che dici stiamo bene stiamo male sì stiamo bene ma il campionato entra nel vivo ci sono partite una dietro l'altra cioè hai bisogno di giocatori hai bisogno di riserve valide cioè 15 partite abbiamo fatto ragazzi non è che abbiamo fatto no sì meno di metà eh appunto Daniele 8.2 milioni se Lecce le investisse sul mercato insomma Corvino farebbe tre squadre faremo Lecce Lecce no non li investiremo sul mercato facciamo la facciamo davvero la squadra Under 23 la squadra Under 22 e 21 sì esatto non li investiremo sul mercato anche perché quei milioni erano stati messi sotto il mattone per qualche miracolo dei nostri soci che insomma stanno facendo grandi sacrifici ci muo' invece attenderanno ci siamo tutti ottimismo fan Claudio sì molto molto ottimismo la riserva dice Andrei ho capito bene ma non arriverà ho capito male arriverà 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 no è chiaro che con la cena che ci hanno offerto settimane il budget è diminuito quindi Filippo tu dici così e la gente veramente poi sente le mezze parole la riserva di Gendrè arriverà la riserva gli ho detto che sarà la riserva dico il sostituto il secondo terzino l'omologo l'omologo si dice omologo quando sarà pronta la est vabbè ragazzi della est fate un sacrificio vedetevi la partita meglio i calciatori andrete a sperti su poster non è male pensiamo ai giocatori chiedetemi quando arriverà la nezzata dove vedete la partita andate alla sud tanto il campo è grosso la partita che mercoledì penso che la vedrò soltanto io io non ci sono perché sto al lavoro Patrizio tu la vedi non lo so dipende dal lavoro allora quante ne abbiamo mercoledì 28 non ci sei e chi te l'ha detto a te che non ci sono scendevi il 29 che tu me l'hai detto ma non lo dico perché non si vede in televisione ma ci sarà la della diretta non lo penso le telerama la darà eh sì come no adatta Udinese però bisogna vedere perché sono aperta al pubblico non lo so beh telerama oggi in streaming non andava quindi non capisco qual è questa cosa ora li devo tempestare di messaggi di telefonale perché se non mi fanno vedere la telerama saluto agli amici di telerama no io mi cazzo veramente con telerama se non mi fanno vedere la diretta lecce con la squadra con il signor telerama come si chiama la squadra con la squadra con la squadra con la squadra no non lo so non lo so almeno sai di chi è il vicepresidente della squadra con la squadra il grande bugrinec è Gio durante il figlio sì il figlio però insomma dai se non mi fanno vedere la partita io ce ne vado ai matti non capisco questa non me lo ricordo io ho già pareggiato 0-0 col Torino ma non li viene Alvini non mi viene me la devo preparare Daniele guarda la prossima volta me la preparo dai non mi viene l'imitazione di Alvini Carlo un po' da papa è l'imitazione di Alvini non ti ricordi no no Alvini c'ha sempre sto viso rosso Carlo ma mi sei lamentato prima del teleronista nella nostra chat ma che diceva no perché no no perché siccome molti si stanno lamentando anche ah sì adesso no nella chat si lamentano Carlo nella chat si lamentano sì nel senso che ma è no nel senso che il telecronista aveva questa pecca qua cioè nel senso che non evidenziava per esempio un esempio il tiro di Person che no il tiro di Uden quel gol in fuorigioco non ha proprio detto niente cioè non è che ha detto il Lecce è pericoloso però cioè praticamente bypassava le azioni delle però è stato onesto aspetta è stato onesto nel dire che il Lecce meritava il primo tempo forse meritava di più fortunata l'Udinese è stato onesto poi ha fatto e poi ha parlato bene di Gallo anche ha parlato bene di Gallo poi ha fatto insomma poi ha fatto un teatrino perché ha preso ha preso quella traversa clamorosa ma infatti ma infatti lo ha raccontato ha raccontato il fatto che Gallo ha un piede sinistro interessante in prospettiva soprattutto per quella incrocio dei pali che ha preso tirando da casa sua vabbè poi voglio dire noi siamo abituati alle telecroniche alle telecroniche neutrali da Dazon su Sky in linea di massima così poi quando sentiamo una un pochettino di parte ci sale rembolo perché giustamente non lo sopportiamo tipo Adani con l'Argentina eh io ho sentito di Petro sì sì indubbiamente ringraziamo gli abbonati Peppe grazie e grazie anche ad Antonio insomma abbiamo commentato questa amichevole ricca di emozioni mercoledì prossimo la commenteremo perché la vedrò soltanto io eh meno male speriamo e fai una telefonata a Telerama Filippo veramente cerca di capire perché poi loro non è che danno spiegazioni cioè se all'improvviso su scuola non continuare perché mi sai che già ci siamo giocati l'invito a Marco Marini a Piazza Giallo Rossa ma beh questo è il mio obiettivo questo è il mio obiettivo non farmi invitare più a Piazza Giallo Rossa se mi dici così l'ho raggiunto allora e fai Andrea Sperti supporto l'ha scritto un bel messaggio dai leggilo dai Filippo sogno una telecoma che adesso Galluccio con Carlo Regizio al commento adesso Galluccio che salutiamo che ha fatto la sua compazza si ha fatto quel cameo per l'apparizione come la Madonna di Lourdes e poi scomparre non ha detto una parola ha fatto in un bellissimo studio poi addobbato con hai visto ha stato la mano come la regina Elisabetta e poi preso il scomparso poi praticamente scomparre ci sarà anche il socorro alla partita se state in tribuna passate a salutare perché mi hanno abbandonato Pienetalecce è la relazione più corposa Pienetalecce è la relazione con più gente tutta la provincia sarò da solo allo stadio ma tuo fratello non c'è lavora pure lui quindi non c'è nessuno quindi venite e fatemi una compagnia guarda Filippo se vengo se scendo io giù il 27 perché può essere che mia moglie mi faccia la grazia so dove stai arrivando di scendere il 27 e il 28 sono gli stati conti esatto no no me ne frega niente pago non c'è problema pago pago che non chiedo niente a nessuno io stavo già sentendo guarda Filippo se scendo il 27 ma io voglio contribuire voglio se no la mezzala quando me la contano voglio contribuire ah raga non sono i 2-5 euro che comprono la mezzala Carlo magari fanno ogni pietra alza parite come si dice dimmi Andrea con la Lazio ci sei? con la Lazio con la Lazio ci sono devo scegliere il settore dove andare perché voglio portare voglio portare mio nipote che sta crescendo ateo praticamente sta crescendo senza senza Dio c'è c'è il padre che non tifa per nessuna squadra quindi lui sta crescendo poverino senza tifare quindi devo indirizzarlo verso la fede giallorossa non posso farlo crescere così e poi magari rischia quale scuole media e mi diventa juventino cioè sarebbe proprio un colpo al cuore una sconfitta morale viene in tribuna centrale se non tribuisce al tersino almeno eh vabbè vediamo dai devo fare non verrà in tribuna centrale grazie Carlo dovrò fare più biglietti vediamo vediamo vabbè ragazzi dai è meglio che chiudiamo prossima puntata Andrea prossima puntata vediamo mercoledì sera vediamo un po' come siamo messi perché magari facciamo una mezz'oretta nella quale tu ci parli della mitievale magari vediamo vediamo dai è natale mercoledì sera è pieno natale 28 devo pensarci ragazzi devo pensarci però comunque nel frattempo la faremo il 4 sicuramente il 4 ci sarà il post partita di sicuro nel frattempo dobbiamo poi fare gli auguri a tutti quanti per Natale noi facciamo gli auguri a tutti quanti però dobbiamo trattare l'ultimo argomento che l'ha scritto Andrea Sperti su Porter messo Maradona messi senza dubbio messi va bene senza dubbio ma senza dubbio Maradona perché è stato il numero 1 in tutti i sensi cioè messi anche come Maradona è il numero 1 anche non soltanto come giocatore ma anche come carisma nei confronti di Messi Maradona è un gigante ha seguito delle linee di pensiero come devo dire contro gli americani a favore di Cuba contro le multinazionali abbiamo capito tutto Carlo mi ci ritrovo capito e quindi grande Maradona che ti devo dire da questo punto poi aveva il problema della droga però insomma nessuno è perfetto Carlo ti hanno chiesto se era meglio Messi o Maradona hai parlato di droga e multinazionali insomma ti ho detto che calcisticamente è meglio Maradona per me è meglio Maradona per me calcisticamente per tanti aspetti non perché Messi sia un brocco però Maradona comunque non si allenava Maradona Filippo non si allenava aveva le gambe grandi quanto le mie cioè sottili così ed era un campione e quindi che cosa vuoi dire che gli vuoi dire era un campione nato Filippo comunque Filippo l'eccellenza 72 ci ha dato uno spunto interessante dice quindi PL Knight Ronvurniez allora potremmo provare magari magari Andrea magari contattarlo Davor grande Davor non so se ha i profili social immagino di sì ci proviamo sì sì ce l'ha ce l'ha perché lui ha un ruolo istituzionale in Croazia una volta credo che avesse anche un ruolo politico quindi comunque un profilo istituzionale deve averlo li scrivo su Instagram ma il figlio è tesserato bisognerebbe parlare con la società ma il figlio non parlerà mai italiano quindi lui non sì infatti invece lui magari magari Davor ma ti ha giocato con Lecce Davor Vugliene che è quello 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 credo tre anni no del 98 2002 2001 due anni e mezzo sì due anni e mezzo qualche lezione di Croato me la faccio allora non ci sta su Instagram Andrea se ne andò all'Atalanta l'anno di quando salì in Morondello Rossi no Patrizio se non sbaglio che stava tipo fuori rosa una rosa del genere già era già in uscita era già in uscita ragazzi vedremo se vorrà venire vedremo se parla italiano Ducarelli non parla perché Ducarelli non può ma essere appena sonerato anche i liberani ad esempio questi sono stati sonerati non non pensano perché se sei sonerato non puoi parlare se sei sonerato sei sotto contratto ancora subito dopo ma poi subito dopo magari rischi la domanda no ah ok quindi non conviene diciamo non conviene non parla no ma mi sa che devi in comune vedere il permesso all'ufficio stampo perché è tesserato immagino è ancora sotto contratto io devo volare saluto buon Natale buon Natale a tutti comunque ragazzi Budinez c'è ma 59 follower quindi non perci saluti ma non è lui è lui non è lui su Instagram non c'è quindi devi muoverti per via traverse Andrea vedremo vedremo mercoledì vai a Filippo va ti ferma e lo rintraccia di persona cioè per forza per forza con i social sanno rintracciare Cristiano se stai là lo rintracci tu fermi o no o il figlio fermo qualcuno della famiglia non rispondi con questa presa di posizione di Carlo vi auguro buon Natale buon Natale buon Natale a tutti e ci vediamo la prossima ciao ciao a tutti grazie grazie grazie